Buonasera a tutti. Un benvenuto a nome della Fondazione Ducale per la Cultura e del Centro Antonio Balletto che di concerto hanno organizzato questa serie di conferenze che trova stasera la sua conclusione con la lezione di padre Enzo Bianchi. Devo dire che non possiamo che esprimere un motivo di grande soddisfazione per il seguito che queste lezioni hanno avuto, iniziate con quella del professor Cacciari e questa sera con la conclusione di Enzo Bianchi. Il tema, lo conoscete tutti, è il problema del male, declinato secondo differenti confessioni religiose e angolazioni diverse. Io tenderei a limitare il mio intervento al minimo per non sottrarre il tempo, ma volevo dirvi un paio di cose. La prima è che vorrei esprimere a nome di tutti la soddisfazione di riavere Enzo Bianchi qui con noi. È un rapporto di grande consonanza che si è costruito negli anni con questa città e col pubblico di Palazzo Ducale e del quale tutti quanti ci rallegriamo. La seconda notazione consiste in realtà in un paio di annunci che colgo quest'occasione per formulare al pubblico. La prima comunicazione riguarda il fatto che sabato 1 marzo nella chiesa di Santa Maria di Castello padre Costantino Gilardi celebrerà una messa nel sesto anniversario della morte di Don Balletto. Penso che la scelta sia particolarmente significativa in relazione ai fatti che dolorosamente abbiamo letto ed appreso relativamente alla presenza dei padri domenicani a Santa Maria di Castello. Il secondo elemento di informazione che vi volevo fornire è una notizia che ci riempie tutti quanti di soddisfazione e cioè il fatto che il venerdì 4 di aprile il centro Balletto conferirà ad una persona cara a tutti i genovesi un premio intitolato proprio ad Antonio Balletto. La scelta nostra è caduta su Don Luigi Traverso che ha cessato il suo servizio di parroco alla Basilica di San Siro e sappiamo tutti e non c'è bisogno che io mi dilunghi su questo argomento l'eroico contributo e servizio che lui ha reso alla città e in particolare alle persone più in difficoltà. E credo che quindi pur essendo noi sempre stati non molto convinti del significato di premi devo dire che in questo caso abbiamo sciolto ogni riserva perché voleremmo e vogliamo tributare a questo eroico sacerdote una testimonianza pubblica. A questa cerimonia che si svolgerà in un locale che verrà precisato di Palazzo Ducale seguirà poi un altro evento significativo pur esso aperto alla cittadinanza e a chiunque fosse interessato scopriremo una lapide nel cortile maggiore di Palazzo Ducale in ricordo proprio di Don Balletto e credo che ricordare Don Balletto in questo palazzo abbia un significato particolare per il contributo che lui ha reso anche alla vita culturale di questa città. Detto questo ringrazio ancora Enzo per la sua presenza qui ringrazio voi per essere convenuti tanto numerosi e gli lascio con piacere la parola. ringrazio voi per essere convenuti tanto numerosi e gli lascio con piacere la parola. È convinta ed è profonda la mia gioia di essere qui questa sera con voi. ringrazio voi per dirvi anche la mia simpatia, la mia vicinanza alla città e a voi che sempre siete presenti a queste mie conversazioni. Grazie davvero a tutti voi e nello stesso tempo grazie agli organizzatori che mi richiamano e grazie anche a Edgardo Levy che mi ha presentato. Voi avete già fatto un tragitto su quello che io chiamerei l'enigma del male. Non è solo un problema il male, il male è un enigma per tutta l'umanità, per tutti quelli che hanno cercato una spiegazione e di cui noi abbiamo testimonianza nelle diverse filosofie, nelle diverse vie religiose. Il male resta un enigma. I tentativi di sciogliere questo enigma sono stati ripetuti, ma finora l'enigma non è stato sciolto, neanche dal cristianesimo. E questa sera cercherò di farvi vedere come l'enigma regna e tutt'al più noi dobbiamo accettarlo cercando, accogliendo l'enigma, di riuscirglielo a trasformare in mistero, dove il mistero non è ciò che non comprendiamo e non è neanche ciò che è pienamente dicibile e compreso, ma è come un'apertura che ci fa andare attraverso l'enigma e ci fa cercare e cercare ancora. Cercherò di essere molto semplice, non userò delle parole astruse. Qualche volta può darsi che sia perfino troppo didascalico, ma io ho sempre la preoccupazione di essere inteso e capito da quanti mi ascoltano, perché è inutile usare dei linguaggi a volte anche tecnici, ma poi non farsi capire. Io non amo queste strade e non le percorro in nessuna maniera. Cominciamo dal concetto del male. In realtà, per quanti vogliono coglierlo nelle sue determinazioni, appare un concetto non semplice. È un concetto amplissimo come quello del bene, come quello della vita e della morte. È un concetto che non può neanche essere isolato nella coppia degli opposti. Quando io dico qualcosa che è male, affermo che non è bene e viceversa. Il male sta sempre in un'alternativa come il bene. All'interno della Bibbia, del grande codice occidentale, all'interno dell'Antico Testamento, c'è una parola che ricorre costantemente in mille maniere, ma poi è sempre questa. Richiama la responsabilità dell'uomo e gli dice scegli, hai due strade davanti a te, la strada del bene e la strada del male, la strada della morte e la strada della vita, la strada della felicità e la strada invece dell'infelicità. Ecco perché noi allora diciamo quale bene, quale male però. Il ventaglio del lessico che designa le forme del male è straordinariamente aperto. Vi faccio degli esempi in modo che ci riusciamo a capire. Il male innanzitutto noi uomini lo conosciamo come sofferenza. Anche se non siamo capaci di dirlo con consapevolezza e con un linguaggio umano, noi conosciamo il male al momento del parto. buttati nel mondo, usciti dall'utero di nostra madre, noi siamo presi dall'angoscia, dal male, dobbiamo imparare a respirare, ci sentiamo bisognosi di mani che ci tocchino, di mani che ci aiutino a respirare, che non ci facciano sentire sperduti in un universo. È il primo male che noi conosciamo come sofferenza. Sofferenza che è anche fisica, ma che è soprattutto in quel caso psichica. Ma poi conosciamo durante tutta la nostra vita il male come malattia, il male come handicap, il male come vecchiaia, il male come morte. Il nostro tragitto nasce con un gemito, il bambino che urla quando nasce e se urla significa che sta male, anche se viene al mondo, e finisce con un gemito di quando moriamo, che per quanto rappacificato per qualcuno è sempre un gemito, è sempre l'espressione del male. Ma poi noi diciamo con il termine male qualcosa che accade a livello cosmico. Terremoti, eruzioni vulcaniche, epidemie, inondazioni, il male ci assale, non sappiamo dire neanche esattamente da dove viene, ma la natura ha una capacità di essere malefica, porta il male, è la nostra condizione umana. ma poi conosciamo anche il male come l'azione degli altri nei nostri confronti e nostra nei confronti degli altri. Fin da piccolo sentiamo l'aggressività verso gli altri o sentiamo gli altri che ci aggrediscono. Pensate un bambino come si difende. Alla fin fine si difende come gli animali per istinto. Quando un bambino si sente minacciato da un adulto dall'altro o è preso da una tale angoscia che si mette a urlare e si ritrae oppure esprime dei gesti di violenza. Con gli altri bambini anche piccoli avete presente come sanno litigare i bambini piccoli per un giocattolo? Si fa male, c'è una violenza. Tutto questo lo vediamo crescere nell'uomo finché l'uomo diventa addirittura un assassino addirittura abbiamo l'umanità che si impegna in genocidi. Penso al genocidio degli armeni per dire semplicemente quelli dei nostri tempi genocidio degli armeni genocidio degli ebrei genocidio in Cambogia genocidio in Ruanda e Burundi non possiamo neppure dire in modo assoluto che il male è solo provocato dalla natura o dagli uomini un tempo si pensava così oggi abbiamo una consapevolezza che una certa violenza che noi facciamo alla terra fa sì che poi la terra si ribelli tutta la nostra capacità di lettura ecologica ci fa dire che noi devastiamo la terra ma poi la terra ci ripaga a casale con l'amianto e con i cancri all'ilve in altra maniera ma pensate solo l'atmosfera come inquinata e porta poi il male nelle nostre vite personali e familiari certamente si può dire che c'è il male dove c'è l'uomo se non c'è l'uomo noi in realtà sentiamo il male in modo irriflesso o addirittura pensiamo che una cosa non è male se ad esempio veniamo a sapere che su un pianeta del sistema solare c'è un'eruzione volcanica nessuno di noi che pensa sia male ma se l'eruzione volcanica avviene in una delle nostre città abitate dagli uomini c'è una provocazione del male ecco il male insomma è dove c'è l'uomo che lo patisce altrimenti noi diremmo sono solo fenomeni all'interno di leggi che ci sfuggono e di un cosmo in continuo divenire il male invece è sempre dove degli uomini lo patiscono o degli uomini fanno il male agli altri e allora gli uomini non sono sono quelli che fanno il male o lo patiscono ma sono anche quelli che lo interpretano solo noi solo noi il male noi lo possiamo vedere almeno con le nostre capacità in tutta la vita a livello biologico chi di noi non vede il male di un pesce che viene arenato e che viene a morire sulla spiaggia o vede male negli animali domestici che soffrono certamente lo vediamo il male chiunque di voi veda un documentario a cui noi oggi siamo abituati il male è presente in tutta la creazione chi di voi non ha visto semplicemente un cerbiatto che viene azzannato da dei leopardi in corsa che a un certo punto lo uccidono il male vedete si potrebbe dire è essenziale è necessario è quello di cui la vita si nutre perché un leone se non ha una bestia da mangiare non vive e questo è male ma il problema è che noi interpretiamo questo come male gli animali no non hanno la capacità di leggere e di interpretare quei fatti stanno oserei dire all'interno di una catena evolutiva in cui il male è coessenziale alla vita ma noi uomini siamo quelli che fin dall'inizio abbiamo questa capacità di interpretare il male e di non leggerlo semplicemente come naturale un animale non si ribella al male noi interpretiamo invece lo stesso male per dire stiamo male o per dire ingiustizia o per gridare perché proprio a me e perché la presenza del male questa davvero è la grande differenza tra noi e gli animali gli animali muoiono naturalmente anche loro soffrendo ma muoiono naturalmente non c'è nessun uomo che muoia naturalmente e oggi noi sappiamo una cosa straordinaria straordinaria che dovrebbe farci riflettere bene noi oggi abbiamo dei dati dovuti alle scienze paleontologiche che gli uomini dal momento dell'umanizzazione come possiamo dire sono evoluti non erano più ominidi ma sono diventati uomini questi sono dati scientifici questi uomini hanno praticato la sepoltura di chi moriva non c'è nessun animale che seppellisca chi muore tra di loro e questo secondo le scienze paleontologiche è davvero straordinario perché è una maniera nostra di reinterpretare il male dei mali la morte perché se ci muore uno non lo lasciamo per strada non lo lasciamo nella foresta ma come è apparsa una umanizzazione minima si è cercato di comporre quella salma di coprirla di mettere un ceppo come una pietra ricordo in sostanza si è cercato di interpretare la morte il male dei mali per noi uomini così noi lo concepiamo ecco allora perché da sempre l'uomo ha cercato di interpretare quello che appariva come un enigma perché il male la grande domanda cur malum perché il male e l'altra domanda subito dopo unde malum da dove viene il male domanda che noi uomini ci mettiamo sempre a diversi livelli non so se mai avete avuto questa esperienza che dopo una diagnosi medica vi venga detto c'è una situazione di malattia con la possibilità vicina di un esito mortale la prima cosa che dentro a chiunque sia destinatario di un tale messaggio da parte dei medici è perché perché poi si tratterà di elaborare questa domanda e poi certo ci sono a volte delle spiegazioni per alcune delle nostre malattie oggi almeno abbiamo delle malattie genetiche delle malattie ereditarie sappiamo che certi comportamenti possono indurre certi mali dentro di noi e certo faccio l'esempio banale ma che se uno ha fumato 60 sigarette al giorno se gli viene il cancro al polmone non è che può pensare questo è semplicemente un caso noi oggi grazie alla scienza sappiamo ma il perché è la prima domanda e la seconda che si innesta è da dove ma perché c'è il male perché io devo essere destinatario del male la domanda successiva è in rapporto a questo mondo ma perché c'è il male che coglie me ho accolto qualcuno dei miei vicini per cui io ne ho sentito una sofferenza e eventualmente il rapporto con qualcuno che per me è un'immagine di salvezza faccio un discorso molto largo potrei dire subito Dio ma siccome io non amo questa divisione che continua a esserci tra credenti e non credenti non la sopporto perché in realtà c'è semplicemente tra creduli e credenti e i credenti non sono quelli che hanno Dio sono quelli che credono in qualcosa che vale la pena vivere i creduli magari credono in Dio ma non hanno nessuna ragione vera di fede quindi non chiamiamoli credenti perché non lo meritano ma certamente quelli che con ogni probabilità pensano a Dio dicono ma allora Dio ebbene io parto da un testo che ho sempre amato fin da giovane quando mi lo davano da tradurre L'attanzio riferisce delle tragiche parole di Epicuro Deus aut vult tollere mala aut non potest è un latino facile Dio o può togliere il male oppure non lo vuole togliere non lo può o può o non vuole o vuole e può se vuole e non lo può togliere allora che Dio è è un Dio impotente eppure ci hanno sempre segnato detto ripetuto Dio è onnipotente ma allora perché non ci toglie il male non lo vuole o non lo può se vuole e non può è un Dio debole e impotente se può ma non lo vuole allora è un Dio cattivo è un Dio malvagio se vuole e può ah finalmente è proprio il Dio che ci piacerebbe permettetemi di chiamarlo così un tappabuchi ogni volta che io mi trovo nel bisogno o nella difficoltà penso che c'è un Dio che vuole e può togliermi il male la malattia la situazione i creduli pensano così i credenti no spererò poi di dirvelo questo fa sì che l'interrogativo più grande che è quello che ci interessa di più nel tragitto che fate il male e le religioni la domanda cogente sia un de malum da dove è venuto il male l'uomo ha sempre cercato di capirlo vuole ancora capirlo oggi e anche il credente il credente ormai avete capito che non è il credulo il credente cristiano autentico anche oggi quando è colto dalla sofferenza pone a Dio delle domande io so che questa sera con le mie affermazioni può darsi che destabilizze in qualcuno di voi chiedo scusa ma è mio dovere non posso far altro perché devo denunciare tutte le favole e tutte le storture che regnano all'interno di un certo cristianesimo ci sono e devo assolutamente denunciarlo Guardini Romano Guardini è stato un grande teologo poco conosciuto italiano ma in realtà diciamo di area teologica tedesca è morto a metà del secolo scorso circa Romano Guardini è un uomo per dirvi autorevole cattolico diciamo uno degli ispiratori di Paolo VI per dirvi la sua autorità ha scritto nel giorno del giudizio quando arriverò davanti a Dio lo lascerò parlare e che mi dica tutti i miei peccati poi a un certo punto gli dirò adesso parlo io tu stai zitto ma adesso rispondi tutte alle mie domande e la prima domanda che ti farò Dio è perché il dolore perché la sofferenza perché il male ecco Guardini era un credente non era un credulo perché il male e da dove viene le risposte vi ho dette sono state tante perché queste domande sono laceranti io vorrei che questa sera qui non fosse preso da qualcuno di voi come delle domande retoriche che ci poniamo tanto per filosofeggiare no non siamo in un salotto ci poniamo le domande più vere che toccano noi ci hanno toccato ci toccano prima o poi ci toccheranno perché prima o poi noi con la nostra vita andremo a fondo toccheremo il fondo o per la malattia o per degli eventi che ci faranno soffrire nella vita e comunque con l'avvicinarsi della morte non sono discorsi da salotto i nostri l'uomo nel rispondere a queste domande perché il male da dove il male non poteva far altro che ricorrere ai miti e i miti voi sapete sono dei racconti non sono delle storielle sono dei racconti immaginifici che tentano di dare una spiegazione a delle domande dell'uomo domande sull'esistenza dell'uomo e soprattutto sull'enigma del male la maggior parte dei miti sono la possibilità antica dobbiamo risalire a 3.000 4.000 anni fa la possibilità degli uomini allora non muniti di una lettura scientifica non muniti neanche di una capacità di una lettura storica ma attraverso delle storie che certamente hanno una radice di verità ma che nel mito diventano delle metafore della parabole di spiegare qualcosa che il linguaggio normale non sa spiegare i miti greci i miti egizi ma anche i miti semitici e di conseguenza i miti che sono entrati nella Bibbia molti di questi miti dovremmo dire la maggior parte ha cercato proprio di spiegare l'apparizione del male l'apparizione delle sofferenze e le ha interpretate anche a livello di errori colpe peccati responsabilità dovute a noi uomini oppure l'introduzione del male è avvenuto da parte di potenze malefiche superiori potenze divine certamente lo schema che più ci interessa questa sera potrei dirvi lo schema mediterraneo diciamo medio orientale è di questo tipo gli uomini siccome sentono che sono chiamati alla felicità vivevano felici con Dio e con gli dèi c'era un mondo senza male senza sofferenza senza morte poi a un certo punto è avvenuto un evento in cui gli uomini si sono mostrati colpevoli hanno fatto ciò che gli dèi non volevano e di conseguenza gli dèi sono andati in collera hanno rotto l'alleanza con gli uomini quel mondo chiamato pardessi in persiano da cui paradisum in latino si è frantumato è finito e il male ha cominciato a regnare con la morte la sofferenza la malattia la guerra la violenza da allora l'uomo conserva nostalgia di questo tempo d'oro degli inizi di questo paradiso perduto è la parola pensate tutto il senso che ha avuto in occidente dunque queste risposte sono avvenute attraverso racconti mitici poetici immaginifici racconti che mettono soprattutto in evidenza il desiderio dell'uomo di capire le radici del male e la volontà di vincerlo c'è una possibilità di vincere il male insomma tutte queste vie molte sono soprattutto riassumibili brevemente questa sera in alcuni punti perché non possiamo capire neanche la risposta cristiana se non cerchiamo anche altre risposte dal di fuori della Bibbia perché il cristianesimo lo si voglia o no si viene dall'Antico Testamento ma nello stesso tempo si è nutrito di tutta la cultura greca in cui si è sviluppato e in cui poi è diventato il cristianesimo d'Oriente o d'Occidente nel quale siamo immersi ebbene Platone nel sesto secolo avanti Cristo interrogandosi sul problema del male nota che il male è sempre là dove c'è la carne degli uomini il loro corpo la nostra sofferenza viene da un corpo che soffre certo viene anche da una psiche che soffre e allora Platone pensa che le realtà materiali sono tutte forme fonti di sofferenza la grandezza dell'uomo sta invece in ciò che lo costituisce a livello di spirito l'anima per Platone il corpo è una prigione dell'anima l'anima ma se non avesse il corpo è immortale non conosce la morte non conosce il male non conosce l'infelicità ma il corpo la tiene prigioniera ma proprio perché l'anima va oltre il corpo certamente l'anima può trascendere le realtà materiali e avere come destino un altro mondo un al di là come vedete la visione molto dualistica c'è una svalutazione di ciò che è carne sarx la carne il corpo la materia di conseguenza una svalutazione della vita ma c'è invece una sovraesaltazione dello spirito la parte immateriale dell'uomo quella che è degna di avere un al di là o addirittura in alcune forme di pensiero essere degna addirittura di avere una vita già prima della morte già prima della nascita ebbene questo è il pensiero dualistico greco al quale a un certo punto c'era già il cristianesimo si è unito un altro pensiero quello di Mani Mani era un sapiente della Persia che nel terzo secolo dopo Cristo attorno al 250 cerca di spiegare il male affermando l'esistenza di due forze eterne e in opposizione il bene e il male lo spirito e la materia la luce e le tenebre vedete questo dualismo che viene anche abbastanza direi accolto in parte da quella che è la nostra struttura culturale dove c'è il male c'è la tenebra dove c'è il bene c'è la luce dove c'è il male c'è la morte dove c'è invece il bene c'è la vita piena ma Mani diceva bene e male sono in Dio non è neanche vero che dicesse che sono due dei diceva nel principio Dio c'è il bene e il male quindi i credenti devono semplicemente cercare di liberarsi della potenza della seduzione di questo male che è in Dio scegliere il bene praticando dunque le virtù insegnate dai grandi messaggeri di Dio ecco i messaggeri chi erano per Mani Abramo Buddha Gesù Cristo e l'ultimo Mani stesso col suo messaggio la visione e l'umanità è divisa in due gruppi i perfetti che sanno rinunciare a tutto ciò che è mondo di conseguenza vivono in una purità corporale che richiede la castità nessuna unione sessuale un'ascesi rigorosissima gli altri uomini sono votati alla perdizione ecco questi discepoli di Mani sono quelli che qualche volta sentite nominare come manichei quando si dice a uno sei un manicheo è uno di quelli che dice chiaro scuro male bene che li vede come due principi che si oppongono con la stessa forza è una visione seducente che permette di risolvere l'origine e la potenza del male come c'è il bene in Dio c'è anche il male Agostino il grande padre della chiesa voi sapete che per nove anni nella sua giovinezza è stato manicheo apparteneva a questa corrente e certo poi si è convertito al cristianesimo è diventato il grande padre ma permettetemi di dire che lui sia stato manicheo ha fatto sì che un po' di manicheismo lo portasse come eredità e la visione di Agostino che quando vede l'umanità vede la massa dannata una massa di gente dannata la perdizione tutti i peccatori Dio che salva pochi gli eletti tutto questo certamente è una visione che Agostino ha ma che paga il debito grande al manicheismo il pessimismo agostiniano vorrei dirvi è ancora presente oggi nella chiesa non vi dico alcuni perché è bene tacere i nomi ma ci sono alcuni che l'hanno espresso e lo esprimono insomma quando uno passa attraverso questa visione pessimista poi nella chiesa c'è sempre stata perché è vero che Agostino si è convertito ma la visione della riforma protestante in alcune sue oserei dire derive è andata nello stesso senso Calvino che divide l'umanità tra quelli che sono eletti e vanno in paradiso e quelli che sono dannati non c'è nessuna libertà umana uno è destinato all'inferno da Dio deve dire sì io vado all'inferno e basta non gli ispetta altro e non può far nulla per non andarvi queste sono visioni manichee è una visione ve lo dico con molto rispetto che mi capiate che ha toccato anche molto l'Islam l'Islam è debitore anche di questa radice culturale perché Dio è un destino quando succede qualcosa a un credente islamico basta Dio l'ha voluto arriva una disgrazia Dio l'ha voluto posso solo fare un inchino e fare Islam abbandono totale in lui è la visione dell'Islam oggi che c'è nel Corano Dio regna sempre se a un certo punto io mio figlio sono in Iraq e oggi è colpito da una granata l'ha voluto Dio muore Dio l'ha voluto la sua mente imperscrutabile io mi abbandono alla sua volontà l'Islam è radicale in questo ma dobbiamo dire che quando invece il problema è stato posto dal cristianesimo il cristianesimo ha avuto certamente queste due eredità culturali del mondo medio orientale Grecia e mani dalla Persia ha avuto anche eredità molteplici questa sera semplifico lo so bene c'è un'eredità anche se volete egiziana copta che viene dal mondo dei faraoni ma soprattutto il cristianesimo rispondeva all'antico testamento da cui era nato generato dalla Torah voi sapete dalla Bibbia ebraica ebbene la Bibbia ebraica certamente pone il problema del male fin dalle sue prime pagine e voi lo sapete Dio crea questo mondo secondo la Bibbia vi sto dicendo per un momento abbandonate le vostre idee ereditate da quella che è la teologia tradizionale espressa dal catechismo che avete ricevuto vi sto dando per ora una lettura biblica come la farebbe un ebreo Dio ha creato il mondo nel creare il mondo ha voluto che la vita fiorisse da una situazione caotica la prima parola della Genesi è che quello che c'era nell'imprincipio era tou vabou queste due parole ebraiche che sono suonate come un tuono sono nomatopeiche vengono tradotte in forme e vuoto ma potremmo tradurre era una massa in forme e caotica dice il libro della Genesi ma su quella massa si librava lo spirito di Dio notate che la versione non pigliate questo sia una sottigliezza è una perla la versione siriaca della Bibbia dice e lo spirito di Dio covava immagine di un uccello ma che sta covando quel mondo caotico permettetemi una semplificazione vi è mai successi da piccolo di dover fare con la rottura di un uovo sotto la cova se voi roppete un uovo di gallina quando in fase di cova se lo aprite vi fa orrore non c'è più il bianco e il giallo separati distinti ci sono nervature di sangue dappertutto c'è una massa mescolata noi diremmo caotica ecco con ogni probabilità mentre il testo ebraico dice lo spirito di Dio si librava alleggiava la siriaca ha capito bene vi dico la siriaca perché in realtà è l'ebraico diventato ramaico dice lo spirito di Dio covava vedete è un linguaggio mitico mica Dio cova ma mica Dio lo spirito è davvero una colomba che aleggia però dava l'immagine che su quella informità caotica lo spirito si libra c'è come Dio che cova e poi la parola di Dio e Dio parlò luce e la luce fu Dio separò la luce dalle tenebre ecco la creazione è opera di distinzione gli ebrei la leggono molto bene così luce dalle tenebre poi acque superiori il firmamento dalle acque inferiori poi terra e mare asciutto e acqua vedete la creazione avviene per separazione poi la vita e la vita è un crescendo prima i mari la germinano poi cominciano le piante poi gli animali e poi l'ultima opera l'uomo quest'uomo che viene fatto a immagine di Dio a immagine di Dio Dio lo creò maschio e femmina li creò ecco la novità partecipa alla vita degli animali ma ha una unicità è fatto a immagine e somiglianza di Dio i termini ebraici dicono un calco noi abbiamo un calco di Dio anche questo è un linguaggio mitico Dio non è che abbia la forma con la barba siamo noi che lo immaginiamo ma certamente per dire che l'uomo ha qualcosa dell'essenza di Dio ha qualcosa diremmo noi della personalità di Dio Dio l'ha fatto a sua immagine e somiglianza e poi quest'uomo viene posto in un giardino perché lo coltivi ecco questo primo capitolo della Genesi è un capitolo straordinario ma attenzione anche lì dobbiamo saper leggere se voi lo leggete come qualcosa che è stato in passato all'inizio voi vi amputate ogni possibilità di capire qualcosa se invece voi imparaste a leggerlo non come prima della storia preistorico ma voi leggeste il primo capitolo come un progetto di Dio e lo leggeste in maniera non teologica ma teleologica guardando al futuro voi capite una cosa Dio vuole il mondo così quella era l'intenzione di Dio questo sì la Bibbia dice questo la Bibbia dice questo e gli ebrei che fanno la lettura del primo capitolo dicono questo e i biblisti che fanno la lettura biblisti cristiani cattolici protestanti oggi sono capaci di dire la stessa cosa e poi arrivano i capitoli due tre e gli altri fino all'undice che sono straordinari perché sono tutte domande sul male cosa faceva l'uomo pensate che questi racconti mitologici mitici sono di 3.500 4.000 anni fa e hanno una forza senza fine la domanda prima che ognuno di noi fa quando viene al mondo pensatevi voi da piccoli una delle prime domande ma perché c'è gente che muore noi nasciamo ma vediamo degli altri che muoiono i nonni bisnonni parenti muoiono perché l'aborto seconda domanda adesso non ve le voglio dire a livello cronologico magari voi avete dato un'altra successione a queste domande da piccoli perché papà e mamma litigano sempre magari in una famiglia che non si litiga aspettano a dirla più tardi ma insomma perché litigano perché li vedo litigare mamma e papà uomo e donna e poi arrivano a 13 anni alla pubertà perché sono attirati dalla ragazza ma nello stesso tempo sentono paura sentono che è un'avventura difficile anche se c'è tutto il peso dell'innamoramento e sono tentati dalla violenza dallo stupro dall'aggressione sessuale perché perché altra domanda ma perché mio padre e mia madre devono lavorare la madre e con ogni probabilità lavorava in casa a quei tempi il padre lavorava ai campi o faceva il pastore ma perché è così faticoso il lavoro perché per mangiare un pezzo di pane devono zappare la terra e dicevano allora quello che dicono ancora molti di noi la terra è bassa bisogna pigliare una zappa per vedere com'è la terra se uno non ha mai preso una zappa non sa e la terra è dura e per darci un po' da mangiare quanto lavoro e poi un'altra domanda ma perché addirittura dei fratelli si uccidono arrivano ad uccidersi e poi ancora perché c'è la pratica della magia ci sono persone che praticano magie forme di potenza che dicono di essere in contatto con Dio con l'altro mondo perché e poi a un certo punto le altre domande ultime perché è una tale violenza di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E a quel punto nasce la tensione tra loro. Il risultato che cos'è? Che Adamo dice a Dio, eh, ma hai messo vicino la donna a te, e lei che mi ha dato la mela. E la donna dice, ma guarda che è il serpente, tu hai messo un serpente, Dio. Ma da quel momento uomo e donna sono in tensione. Ecco perché noi troviamo quel testo terribile, che è una lettura certamente in epoca patriarcale, che dice alla donna, tu partorerai i figli con dolore, tu sentirai un'attrazione verso tuo marito, ma lui ti dominerà. Se il testo mitico fosse stato scritto in epoca matriarcale, si sarebbe detto, tu uomo sarai sempre attratto dalla donna, ma lei ti dominerà. Però il problema qual è vero, leggiamolo con intelligenza, è che da sempre tra uomini e donne c'è guerra. In alcune epoche, rare purtroppo per voi donne, ha prevalso il matriarcato. Quasi sempre ha prevalso il patriarcato, è il maschio che vi domina, però questa guerra continua fino ad oggi. È dentro noi una ferita che non è sanabile. La prima ferita che noi sentiamo è proprio verso l'altro sesso. La sentiamo, pur nell'attrazione, la sentiamo come una minaccia. E l'avventura sessuale, voi sapete, è un'avventura certamente bella, e meno male che i poeti la cantano, ma sovente è faticosa, a caro prezzo, non è così semplice, tutti la immaginano semplice, ma chi conosce i giovani nella pubertà sa quante fatiche e quanti, direi, contraccolpi tutta la vicenda sessuale comporta, soprattutto per il fatto che la nostra natura umana non è come quella degli animali che giunti alla pubertà si accoppiano naturalmente e tutto è finito. Noi giungiamo alla pubertà a dodici, tredici anni, ce ne volevano almeno cinque o sei nell'antichità per arrivare ad essere capaci di unirci e diventare padri o madri, forse oggi ce ne vogliono ancora quindici, se non venti, perché altrimenti se si accoppiassero due o tredicenni che maternità e che paternità porterebbero, ditemi voi. Certo, biologicamente funziona la fecondazione possibile. Ecco la dilazione terribile per cui dalla pubertà un tempo di dilazione in cui il bisogno sessuale, che è sempre una forza aggressiva, deve diventare desiderio. Noi dobbiamo disciplinarlo, dobbiamo farne un'arte, non possiamo rispondere semplicemente come una pulsione animale. La Bibbia risponde così. E poi dice è la terra? Eh, maledetto il suolo, tu lavorerai il suolo con fatica. E poi Caino e Abele, due fratelli che si ammazzano, ma come è possibile? Eppure. E poi quando si accoppiano gli uomini a questi esseri divini, in una specie di qualcosa di terribile in cui si mescola sessualità, sacralità, divinità e umanità, la magia, la prostituzione sacra, tutti i temi che allora erano forti, erano all'orizzonte. E poi la violenza che provoca il diluvio. E poi Babele, confusione delle lingue per cui gli uomini non si capiscono più. Vedete che quelli sono esattamente dei tentativi di risposta a livello mitico di 3.000 anni fa. Il male da personale a Damo e Deva, addirittura dal luogo dell'unione essenziale, perché è lì che c'è la generazione della vita, diventa male tra fratelli, diventa male tra terra e cielo, diventa male tra popoli, diventa male tra collettività, diventa male addirittura tra genti, le lingue, che non trovano e che anzi fanno il potere totalitario. Babele, porta degli dèi, facciamoci una torre che tocchi il cielo e tutti gli uomini siano soggetti. Era il grande impero, il primo impero a Oriente che la storia ha conosciuto a Babilonia. Mi verrebbe da dire per inciso, non è cambiato nulla in quella regione e facciamo gli altri. Ecco, la Bibbia dice questa è l'interpretazione del male da dove viene. Voi mi direte, ma lo schema che noi abbiamo ricevuto è che c'è stato il peccato originale fatto da Damo e Deva e poi questo ha introdotto nel mondo la morte, le malattie, i disastri, e anche il male. Allora, io sono molto onesto. Questa visione non è dell'ebraismo. Questa visione non è neanche dell'ortodossia della Chiesa Oriente. È una visione che c'è stata nella Chiesa Cattolica molto agostiniana. È Agostino che ha fatto il primo teologo del peccato originale da cui di conseguenza tutti i mali sono entrati nel mondo. Noi oggi di fronte a questo schema abbiamo delle difficoltà. È inutile dirlo, la Chiesa le ha capite, eh? delle difficoltà perché conoscendo l'evoluzione e accettando l'evoluzione della specie, noi oggi conosciamo che il male c'era già prima. Gli animali morrivano già, i vulcani facevano vittime, gli animali più forti mangiavano i deboli, non c'è stato un Eden perduto, non c'è stato un paradiso perduto, ma da quando c'è l'uomo, l'uomo porta con sé questa capacità del male. Ecco allora la reinterpretazione, io faccio le cose molto semplici e veloci, ma certamente potremmo fermarci qui, ma il nostro compito non è qui di far teologia, ma di leggere cosa il cristianesimo può dire sulla questione del male. Ecco che negli ultimi 50 anni i teologi hanno percepito che il peccato originale è in realtà qualcosa che è dentro di noi, nella nostra condizione umana e che ci rende capaci di fare il male man mano cresciamo. La domanda è chi ha introdotto il male dentro di me? Chi ha introdotto il male in ciascuno di voi? Perché quando siete nati, se avevate un gemello accanto, eravate capaci di dargli un pugno per dire questa mammella di mia madre è mia e non è tua? Vera cattiveria, vero egoismo, devo poppare io, non tu. Questo i bambini lo fanno a tre mesi. La famosa innocenza e bontà dei bambini, permettetemi, non usatela più, che queste sono idee come quelle, sono tutte belle le mamme del mondo, tipicamente italiane. Non c'è nessuno innocente e i bambini non sono innocenti perché hanno un fascio di animalità in loro molto più potente di quello che abbiamo noi se abbiamo fatto un cammino di umanizzazione. Non c'è innocenza. Quando si dice sono innocenti, di cosa? Semplicemente non hanno ancora commesso dei delitti, ma il loro egoismo, la riserva della loro vita, la capacità di aggressività, noi l'abbiamo. Guardate i vostri figli, chi l'ha introdotta? Siete voi? No. E semplicemente perché vengono al mondo e trovano un mondo che sia così malvagio che diventano cattivi anche loro. Anche questo è stato un mito. Per cui al tempo della rivoluzione francese hanno detto sì, facciamo una cosa, un esperimento. Appena noto lo mettiamo nella foresta. Non vede niente del mondo, sarà bravo. Ne hanno fatto un selvaggio più cattivo e aggressivo di quelli che stanno nelle città. Ecco, la lettura qual è? E' quella che riesce a fare Paolo in maniera molto drammatica. Io non il bene che voglio fare faccio, ma il male che non voglio fare faccio. Noi siamo fatti così. C'è dentro di noi una capacità al male che ha tante radici. C'ha certamente delle radici genetiche. Dobbiamo essere certi. Noi veniamo da un momento in cui, meno male, per rompere certi schemi della cultura contadina, ci siamo bendati gli occhi e abbiamo pensato che non c'entrasse nulla la nostra ascendenza. Stupidaggine. Oggi siamo sempre più convinti che ci sono delle eredità genetiche, che ci sono delle debolezze, delle fragilità psichiche, fisiche, che vengono avanti. Basta che voi scopriate che se avevate una nonna col diabete e se siete un nipote maschio a 60 anni attendetevelo. A me l'han pronosticato ed è arrivato fedelmente. Questione genetica, è così. Tante malattie sono genetiche. Di altre non sappiamo l'origine. E sono un male. Ma anche nel nostro operare certi vizi che erano dei genitori non li avete sentiti dentro di voi. E oggi noi abbiamo le statistiche che anche i bambini non allevati nel contesto familiare portano dei caratteri che sono della madre o del padre mai conosciuti. Ad esempio una propensione all'ira, alla collera, alla violenza. Certo, il male, cioè la capacità di fare il male dentro di noi, c'è. Poi possiamo a un certo punto pensare all'assetto della società. Certamente la società ci può rendere cattivi. Oggi noi siamo in un mondo in competizione. è chiaro che un giovane che arriva a vent'anni nel nostro mondo facilmente è un arrampicatore, facilmente vuole assolutamente arrivare presto al potere, arriva a una competizione senza fine per alcuni. Per altri invece, data la situazione per i giovani di mancanza di lavoro, soprattutto di mancanza di orizzonti, indubbiamente siamo di fronte a un'astenia, a una debolezza che non sanno cosa fare, non sanno come pensare il domani e certamente sono una generazione più disgraziata della mia perché la mia usciva dal dopoguerra e avevamo tante speranze e tanti obiettivi che oggi non ci sono. Quindi il male è anche una forma sociale. Ormai la Chiesa ammette che c'è un peccato sociale e poi ci basta. Ma chi ha introdotto il male? Ecco l'enigma che permane. C'è un certo schema che qualcuno di voi avrà sentito che Dio ha creato il mondo bene. A un certo punto però ha creato l'uomo e delle creature spirituali, eterne, gli angeli, poteri, potenze, si sono ribellati a Dio. Ebbene Dio li ha cacciati nell'inferno, sono diventati il diavolo, sono diventati quelli che tentano l'uomo, che hanno cominciato a tentare Adamo deve e tentano ancora noi. Questa è una spiegazione solo cattolica, non ha nessun appoggio biblico, ma è stato un tentativo di dire il male da dove viene. Noi non lo possiamo imputare a Dio perché è guai se Dio avesse creato il male. Non saremmo più responsabili noi. Ma se sono questi angeli che pur hanno una forza, diciamo così, superiore a quella umana, una certa forza divina, diventati diavoli, allora la storia di Lucifero, avete presente, si è ribellata. E una cosa antica parte da una lettura del profeta Geremia che in un'invettiva verso l'imperatore di quel potere totalitario di Babilonia il quale si chiamava Lucifero, portatore di luce, il nome della stella, avete presente? La stella che si vede al mattino, alla sera, Lucifero, venere in realtà per i romani. Allora questo profeta dice «E tu, Lucifero, hai voluto andare in alto e in alto, sei precipitato nell'abisso». Ma era una lettura per il re di Babilonia, né più né meno, un'invettiva contro Nabucodonosor. Di lì si è detto «No, si evoca qualcosa che è avvenuto prima della creazione». Però queste non fanno parte della fede cattolica, sono dei tentativi. La scrittura e la fede cattolica si fermano a dire «C'è nell'uomo questa capacità del male, non proviene direttamente dall'uomo, è una presenza che c'è, da dove viene? Noi non lo sappiamo. Noi non lo sappiamo. E quando noi mettiamo il male vicino a Dio, la Bibbia stessa non dà nessuna risposta. Credo che tutti voi conosciate un poco il libro di Giobbe, che è tutto un libro dedicato alla questione del male. Giobbe è giusto, è buono, eppure in poco tempo gli muoiono i figli, un'epidemia al bestiame, è povero, sua moglie lo caccia su un letamaio. Lui cosa fa? Urla! Anzi, se la piglia con Dio, gli dice «Oh, tu dici che benedici il giusto, protegge il giusto, io? ho fatto nulla di male, sono stato buono, ho dato da mangiare al povero, a casa mia venivano tutti, ma dove sono le tue promesse?» e arrivano dei suoi amici teologi, teologi sono rispettabili, ma certe volte sapete, e uno gli dice «No, caro Giobbe, se tu sei così è perché hai fatto il male, c'è poco da fare, è che tu non vuoi riconoscere, ma tu sei un delinquente, sei un ingiusto», e Giobbe dice «No, no, no!» gli altri tentano e alla fine arriva Dio e arriva Dio e dice «No, chi aveva ragione era Giobbe, Giobbe ha mai fatto nulla di male, siete voi che leggete questi mali come un castigo mio? No, Giobbe è quello che ha ragione, ma Dio non spiega perché a Giobbe sono capitate tutte quelle cose e l'enigma permane». E allora ultimo passo. Cosa vede la fede cristiana in tutto questo? Vede un Dio il quale non ci risolve il problema del male, Dio non ci toglie il male, non può togliercelo, ma non perché lui è cattivo né perché lui è impotente, attenzione, ma perché lui ha voluto che noi fossimo di fronte a lui un partner assolutamente libero e sovrano e autonomo. i creduli pensano che Dio ci risolva tutti i problemi o pensano addirittura un'immagine di Dio che Dio ha una giustizia retributiva per cui basta che io compia delle opere buone che poi lui è debitore verso di me. è il Dio del baratto pensateci a cosa l'abbiamo ridotto adesso io signore sto buono ma tu mi raccomando nessuna malattia fino a 60 anni guarda Dio ti prometto guarda tu io ti faccio tutto questo ti faccio i voti ti faccio le novene ti faccio i sacrifici ti faccio i fioretti però e poi purtroppo nonostante queste cose ci sono i Giobbe e soprattutto per noi cristiani c'è Gesù Cristo non aveva peccato tutta la vita l'ha spesa facendo il bene eppure è morto addirittura non solo nel male più atroce ma nel male della vergogna dell'infamia dell'innominia di un crocifisso perché veniva giudicato nemico di Dio e degli uomini e lui non ci ha risolto il problema e permettetemi due passaggi conclusivi poi con le domande possiamo andare oltre Gesù ci dà alcuni esempi il primo il male non viene perché Dio ci castiga questa è una bestemmia quando la sentite dire da certi ecclesiastici che la dicono ancora ricordatevi che questa gente ha nulla a che fare con Gesù Cristo diteglielo in faccia vi ricordate Gesù c'è un cieco gli uomini religiosi gli portano il cieco ha peccato lui o i suoi genitori e Gesù dice smettetela di imputare che uno in una disgrazia dunque ha peccato ora è vero noi purtroppo abbiamo dentro di noi dei sensi di colpa ma il meccanismo di questo non ve lo spiego io ma ve lo potrebbe spiegare eventualmente un amico che è qui padre Gilardi noi siamo subito colti dalla colpa ma cosa ho fatto di male è un meccanismo che portiamo dentro della nostra psica ci viene annunciato c'hai un cancro ma cosa ho fatto di male ecco allora che già noi tentiamo a colpevolizzarci perché il male è enorme è troppo grande perché noi lo possiamo accogliere e di fronte a questa sorpresa della grandezza del male ma cosa ho fatto di male quante volte ho sentito dei malati di cancro dirmi mi dico un po' ma che cosa ho fatto di male guardi io mi confesso le dico tutto quel che ho fatto ma cosa ho fatto da meritare una cosa così o da meritare che a un certo punto il figlio di vent'anni muoia improvvisamente o che un altro figlio si suicidi pensateci bene ma se anche uno ha fatto un peccato sarebbe degno di un male così forte no no Gesù ci ha liberato da questa immagine di Dio perverso che castiga Dio non può castigarci finché noi siamo qui di là certo lo potrà ma finché siamo in vita siamo degli uomini liberi davanti a lui che possiamo bestemmiarlo possiamo dirgli tu non ci sei possiamo dargli tutti gli insulti e lui state tranquilli non può farmi cadere dopo due ore una tegola sulla testa sarebbe un Dio davvero terribile e purtroppo c'è questa immagine c'è ancora nel cristianesimo alcuni la dicono e volete sapere l'altra immagine che è esattamente simmetrica e perversa come questa e non cristiana io ho un cancro ah guarda è Dio che ti ha baciato ti voleva così bene che ti ha baciato lo dico perché questa è una frase detta da una donna che santa molto religiosa e che diceva a tutti così hai la lebra è un bacio di Dio ma pensate ma se io sono un padre o una madre e che amo mio figlio e che gli viene detto a mio figlio tu muori c'hai la lebra o muori perché Dio ti ha baciato ma io piglio un forcone verso quel Dio perché non è possibile che noi abbiamo un'immagine perversa così di Dio questa è una causa dell'ateismo che c'è stato l'ultimo secolo diceva Fon Balthasar un altro grande teologo diventato cardinale che l'ateismo è stato più causato da queste immagini perverse del Dio cristiano che non dal materialismo dialettico marzista ed aveva ragione sono tentativi di consolazione ma che non tengono conto della verità quando ero piccolo mi ricordo si moriva ancora da piccoli e sapete cosa ci facevano mettere sulle immagini dei bambini morti muore piccolo chi al cielo è caro mio padre che era un non credente diceva preferisco che tu non sia caro al cielo queste sono quelle che hanno reso il Dio cristiano un Dio non più credibile noi dobbiamo tenere presente davanti Gesù di fronte alla prospettiva della morte tre volte il che significa con continuità padre se è possibile passi da me questo calice se è possibile allontanami questa morte questo arresto che lui sapeva imminente e Dio attenzione non gli ha detto coraggio Gesù fra tre giorni passa e neppure gli ha detto ti tolgo la morte e Gesù forza di dire padre 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 allontana da me cadeva a terra dall'angoscia addirittura Luca ci dice che la tensione era tale che i suoi capillari sulla fronte stillavano sangue Marco ci dice cadeva costantemente a terra e in quella lotta Gesù ha finito per dire ma non ciò che voglio io ma ciò che vuoi tu da intendersi non tu padre vuoi che vada la morte tu padre mi hai chiesto in questa vita di essere un uomo mite che arriva a non difendersi io continuo su questa strada anche se mi attende la morte è una morte violenta Gesù non ha subito il capriccio di un padre eterno che voleva la sua morte perché allora voi come padri e madri siete meglio di quel Dio perché non vorreste neanche la morte di un vostro figlio delinquente sareste i primi a dire in caso di pena di morte non avvenga è pur sempre mio figlio e noi invece di Dio diamo un'immagine peggiore di quella che siamo noi come padri e madri e infine Gesù nell'ora di morire proprio perché non ha spiegato l'enigma del male ha fatto quel grido Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato dove questo termine in ebraico lui deve aver detto l'emma la ma come ci riferiscono i Vangeli e il termine che c'è nei salmi perché o Dio ci respinge perché nascondi il tuo volto perché io soffro e tu non intervieni ed ecco allora dove si illumina per il cristiano tutto nessuno ci toglie il male il male fisico il male psichico il male che ci fanno gli altri ma noi siamo responsabili del male che possiamo fare gli altri e dobbiamo vincere questo male con il bene questo è tutto l'insegnamento di Gesù l'avete sentito ancora ieri nell'omelia a chi ti dà uno schiaffo tu dagli l'altra guancia amate i vostri nemici l'avete sentito ieri il male resta un enigma ma noi lo possiamo vincere con il bene e soprattutto per gli uomini vittima del male la prospettiva cristiana è quella della risurrezione dietro a Gesù noi risorgeremo e gli uomini che qui sono stati vittima riavranno tutto quello che non hanno ricevuto in questa vita o che gli uomini addirittura gli hanno negato in quel giorno straordinario del giudizio per chi ha la fede cristiana ci sarà davvero una giustizia ristabilita e che ha passato tutta la vita senza dignità perché gli altri non la riconoscevano dal povero schiavo che ha fatto le piramidi al povero bambino che muore a tre mesi in una culla per fame a chi è morto nelle carceri torturato Dio darà quello che gli è mancato questa è la fede cristiana ma di qui non possiamo attenderci che Dio ci tolga il dolore la morte non l'ha mai tolta nessuno neanche a suo figlio la morte e il male dobbiamo combatterli con le armi che abbiamo e con molta responsabilità di fronte a una malattia ricorriamo alla medicina e con la medicina ricorriamo soprattutto a ciò che un uomo può fare per la cura di chi è malato perché sovente la medicina non riesce a far nulla perché non è accompagnata dalla cura di quelli che dovrebbero invece stare vicino curare ed amare chi è malato chiediamoci quanti muoiano non perché la medicina non ci riusciva ma perché non avevano le forze interne per sperare di vincere la malattia e non avevano nessuno vicino disposto a combattere con loro il male va combattuto da quello che ci fanno gli altri vincendolo con il bene a quello che ci capita addosso per la fragilità umana morte e malattia con tutte le nostre forze e con la vicinanza la prossimità di quelli che ci aiutano ad attraversare queste zone l'unica cosa che ci sarà chiesta da Dio è se nel male abbiamo saputo continuare con tutte le difficoltà stringendo i denti a credere nell'amore e a cercare di amare e di accettare di essere amati ma il mistero del male resta un enigma si illumina solo con la fede cristiana e la resurrezione ma l'origine del male andarle a indagare è anche un gran lusso Gesù non ne ha mai parlato mai Gesù si è interessato di chi soffriva di chi conosceva il male non si è mai interessato delle origini del male perché sapeva che non sappiamo risolvere sto problema ma ciò che è importante è cercare non di risolvere ma di alleviare il male di prendersi cura del male di vincere il male con il bene grazie dell'ascolto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie sicuro 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 dirò qualcosa ti è tranquillo se abbiamo qualche minuto non molti devo dire non molti perché sono le 7.20 se qualcuno prego se avete una domanda qualche domanda ben volentieri io la ringrazio molto ovviamente siamo tutti i suoi affezionati lettori spero che di interpretare il pensiero di tante persone che sono qua io alla sera prima di addormentarmi qualche pezzetto delle sue ripressioni l'accetto stasera ovviamente secondo il suo desiderio io vado via confuso per cercare perché mi sembra che l'itinerario che lei ha disegnato nel quale ci sono anche grandi tracce di storicizzazione eccetera mi sembra che lei creda più nel fatto che l'uomo cerca Dio e Dio è lì in ascolto molto silente io quando ero giovane sono stato molto turbato dal fatto di andare in un ospedale qui a Genova dove c'erano dei bambini che soffrivano ed è stato un primo colpo alla mia fede perché non accettavo il dolore dei bambini poi chiaramente la biologia questo tutte le indicazioni che lei ci ha dato però mi sembra che la sua sia una visione molto filosofica più che teologica nel senso che cantianamente siamo liberi di cercare Dio se poi in questo Dio troviamo delle risposte buone per noi prego io le chiedo umilmente perché ho avuto una mamma che era una tovatella e ha tentato tante volte il suicidio e alla fine ce l'ha fatta io ho fatto da madre a mia madre poi ho perso il marito che per me era tutto padre, madre, sorella amante tutto e poi ho una morte apparente di mio figlio Giorgio che non è un drogato un quante manager a Dubai e la famiglia vive a Lavagna io gli ho scritto per fare sebook e in logì tante cose di più ma lui non ha risposto ancora oggi volevo scrivere per essere un po' agitata volevo scrivere Giorgio carissimo tu sai sai come ho perso io la mamma papà e tutti specchiati davanti quello che tu provi per tuo figlio lo provate per te per Alessio e Giorgio tu devi spiegarti adesso che hai un figlio che ha quasi undici anni devi capire cosa prova tua mamma e cosa ha provato per voi ho fatto di tutto e di più ma io non voglio un tuo ringraziamento voglio almeno che tu mi risponda le mie infinite lettere che ti ho scritte sulla perdita del padre sul tuo fratello che tu sai che lavoro in conto proprio e tu non hai mai mai scritto né a me a tuo fratello e io attendo sempre una tua risposta tu sai e allora chiedo a lei dopo che ho scritto talmente cosa a questo mio figlio mi dica a lei qualcosa che possa toccare il cuore di questo ragazzo va bene una domanda difficile nel catalogo delle cose che tu hai detto sul cristianesimo c'è anche quella del sacrificio di Cristo a volte ci hai presentato come un padre che sacrifica suo figlio che ha voluto il sacrificio di suo figlio se puoi dire una parola ecco inizio dall'ultima che mi permette di fare un certo ordine come vi dicevo è sbagliato dire che Dio manda il male e castiga così è anche sbagliato dire che Dio manda il male al nostro bene come segno di affetto vi dicevano che sono due cose simmetriche ma un altro rischio un'altra grande bestemmia che c'è ancora purtroppo molto presente all'interno oserei dire dello spazio cristiano cattolico è quella di pensare che Dio padre ha mandato suo figlio nel mondo perché suo figlio salisse sulla croce e attraverso dolori terribili salvasse il mondo con la propria vita allora questa visione è una visione che è sconosciuta al mondo cristiano orientale e anzi vi dirò se gli ortodossi teologi hanno avuto qualche volta una difficoltà nei confronti di certa teologia cattolica è proprio su questo punto perché? Perché Gesù è morto in croce? La prima risposta che ci può venire è perché Dio voleva espiare il peccato dell'uomo l'uomo aveva peccato qualcuno doveva pagare gli uomini non ce la facevano a pagare tanto era grande il peccato lui ha mandato suo figlio e in quel momento è stato soddisfatto padre Gilardi ricorderà che ci sono prediche dei gesuiti del sedicesimo diciassettesimo secolo che sono terribili a questo proposito ve ne dico una il padre ha mandato suo figlio proprio perché spiasse i peccati quando suo figlio era in croce tormentato il sangue che gli usciva per la corona delle spine tormentato che stava per soffocare il padre dal cielo vedeva e godeva e a un certo punto quanto ispirato ha detto finalmente adesso sono soddisfatto ecco io vi vorrei far capire che queste sono bestemmie perché quel che ci dice il Vangelo quel che ci dice la sana teologia la sana teologia cattolica non quella è che Dio ha mandato suo figlio nel mondo come Gesù ha spiegato allora io non commento non sono filosofo eventualmente biblista questo sì vi faccio il racconto che ha fatto Gesù per spiegare lui la vigilia della sua morte ha detto un uomo aveva una vigna in quella vigna a un certo punto ha mandato i suoi servi a pigliare il raccolto ma quei vigneioli uno l'hanno picchiato l'altro l'hanno ammazzato l'altro l'ha mandato via e così lui ha esaurito tutta la lista dei servi aveva ancora suo figlio e ha detto dentro di sé ma avranno rispetto di mio figlio non hanno avuto rispetto dei servi ma al vedere il figlio i vignaioli dicono ecco la vigna sarà nostra ammazziamolo questa è l'interpretazione che ha dato Gesù della sua morte voi allora mi dite che quel padrone ha mandato suo figlio perché i vignaioli lo uccidessero però di no non ha raccontato così Gesù lui l'ha mandato come estrema possibilità ho mandato i profeti dal primo fino a Giovanni Battista li hanno ammazzati tutti ho ancora la chance di mio figlio essendo il figlio del padrone avranno rispetto lo ascolteranno e invece l'hanno ammazzato come gli altri perché Gesù è morto e perché è morto di morte violenta anche lì la Bibbia ci dà la risposta andate a leggere questa sera quando tornate il capitolo 1 e 2 del libro della sapienza tra l'altro è un testo di una modernità che non c'è in nessuna letteratura del mondo un testo così bello dice gli uomini ragionano il mondo è cattivo stiamo un po' di giorni e poi ce ne dobbiamo andare la maggior parte dei giorni e sofferenza cosa dobbiamo fare visto che la giovinezza passa in un momento accumuliamo soldi diamoci al potere poi facciamo banchetti e certo ci sono i poveri e il povero c'è un po' di imbarazzo ma allora questo povero facciamo così cominciamo a perseguitarlo il povero dice che lui è figlio di Dio vediamo se viene Dio ad aiutarlo leggete questo brano leggete questo brano in tutta la sua contemporaneità perché quelli che nel mondo sono i padroni oggi e quelli che fanno soffrire gli uomini fino a questa crisi in cui ci sono uomini e donne che fan fatica arrivare alla fine del mese questi padroni del mondo non cambiano leggete il loro ritratto in sapienza 1-2 è l'ultimo libro dell'antico testamento ed è il libro che interpreta Gesù allora pigliamo il povero ammazziamolo intanto lui dice che Dio è padre vediamo se viene in aiuto sono tutte frasi ripigliate dagli evangelisti nella passione lo sapete le avete sentito Gesù è morto perché c'è una necessità umana che in un mondo ingiusto il giusto c'è poco da fare viene perlomeno osteggiato o fatto fuori non può essere diversamente non è perché Dio lo voleva in croce perché allora avrebbe ragione davvero Engels il quale diceva quando gli uomini vedono che i loro padri terreni sono migliori di Dio diventano atei ma chi ha aiutato tanto a far questo sono stati proprio sovente gli ecclesiastici dando l'immagine perversa di Dio quindi Dio ha sofferto vedendo suo figlio ma non poteva far nulla c'era una maniera per non passare attraverso la croce semplicemente che quella sera i discepoli l'avessero difeso con le spade uno ha tirato fuori una spada e lui ha detto rimetti la spada nel fodero non voglio nessuna difesa ma se lo difendevano con le spade se lui scappava e andava via Gesù non andava alla croce non aveva la croce come destino che incombeva su di lui perché il padre voleva avere un figlio crocifisso ma che padre sarebbe ecco su queste cose noi abbiamo avuto parole molte decisive ve lo dico il problema è che sovente non raggiungono il popolo cristiano da Benedetto Sedicesi più volte è tornato ammonendo non abbiate queste immagini di Dio perché il nostro Dio non è quello purtroppo qua e là si dicono ancora e allora se gli uomini poi vanno da un'altra parte ognuno si prende la responsabilità soprattutto quelli che hanno la responsabilità di comunicare l'immagine di Dio per l'altro problema che diceva la signora e che diceva testimoniava sì noi abbiamo sovente a che fare con un male in cui non sappiamo cosa fare il primo male è che non sappiamo dire di fronte a certi eventi io ho accompagnato alcune volte dei genitori che hanno visto il loro figlio a vent'anni suicidarsi in casa davanti a casa e vi dico il dramma perché chi si suicida beh lui se ne va e certamente fa un atto che gli ha causato un momento di sofferenza ma il suicidio è un grande problema per chi resta soprattutto non per chi se ne va perché chiunque è vicino a chi si suicida non può far a meno di pensare anche se è sbagliato ho fatto qualcosa non ho saputo fare qualcosa è terribile indubbiamente è uno degli eventi che più feriscono io conosco dei genitori che in qualche senso portano questa ferita e che non riescono assolutamente a guarirla perché è come un fatto inspiegabile soprattutto di chi noi amiamo ma anche lì si tratta di rispettare il mistero una volta pensate di fronte ai suicidi non gli si dava la sepoltura lo sapete ma pensate che crudeltà per quelli che restano neanche la sepoltura sentire il figlio come un maledetto addirittura escluso un tempo escluso dal cimitero messo fuori con gli ebrei questa era la legislazione cattolica ma com'è possibile questo ma com'è possibile cosa ne sappiamo di chi si suicida e se avesse portato un dolore che non poteva portare era semplicemente una persona fragile a volte abbiamo delle vergogne da portare che non siamo capaci dei dolori che non siamo capaci a volte la nostra mente vede come unica via d'uscita l'uscire da questa vita solo Dio può giudicare i suicidi non noi e non dobbiamo neanche parlarne molto è un grande mistero e bisogna avere anzi oserei dire una sorta di grande misericordia un'empatia verso chi si suicida perché poi ciascuno di noi deve dire la verità non ci ha avuto un momento nella vita in cui ha pensato a suicidarsi semplicemente come ipotesi anche quella è una tentazione che ci portiamo dentro anche questa è una specie di via di scappatoia di fronte al male quando sentiamo il male più grande di noi e allora un grande rispetto certo portare il peso non ho potuto far nulla è un grande peso ma è anche il peso che portiamo a volte che vediamo delle persone infelici e noi non riusciamo a far nulla non riusciamo a far nulla o loro non rispondono al bene che noi gli facciamo vogliamo alcune volte anzi pensate questo che è vero alcune volte più volete bene a una persona più lei si allontana da voi e addirittura arriva a detestarvi è anche possibile questo l'amore a volte provoca odio perché dentro di noi se noi siamo onesti noi siamo abitati da profondità che non conosciamo in noi ci sono delle zone infernali non abitate da Dio non abitate dall'amore che permangono in noi alcune volte con prepotenza si levano come ombre dal nostro inconscio noi uomini sì siamo purtroppo questi luoghi in cui il male abita e alcune volte lo facciamo per ignoranza alcune volte per salvaguardare la nostra vita alcune volte per difesa alcune volte non sappiamo neanche perché io ho conosciuto persone dire ma cosa mi aveva preso per arrivare a fare questo ma anche questo a volte lo leggiamo da vecchi non da giovani quando siamo obbligati dai giorni corti che ci stanno davanti e che non sappiamo neanche più trovare vie di redenzione vie di senso allora oppressi riconosciamo il male fatto noi siamo tutti dei mendicanti il mondo non si divide in giusti e in giusti non si divide neanche in santi e peccatori si divide in persone che vogliono avere la responsabilità e persone invece che non si umanizzano e che non possiamo neanche condannare perché solo loro conoscono la loro storia i pesi gli ostacoli trovati ma non sono persone che possiamo giudicare e pensare più cattive di noi chi lo sa noi magari siamo solo persone fortunate che abbiamo avuto gente attorno che ci ha aiutato ad essere un po' più buoni magari visibilmente degli altri ma altri non hanno trovato quell'aiuto non hanno trovato chi aveva fiducia in loro non hanno trovato persone in cui metter fiducia provate a pensarvi così e vi direte cosa sarei diventato io ecco perché dal male noi possiamo certamente in qualche misura non liberarci ma perlomeno attraverso il bene cercare di ostacolare il dilagare del male il male è come un'epidemia è come il bene più fate del bene più il bene si diffonde attorno a voi più fate il male più il male si diffonde lo sapete è un'epidemia se io faccio bene davvero a ciascuno di voi quello a cui io ho fatto bene prima o poi sente il bisogno di fare bene all'altro non di contraccambiare me e così il bene si moltiplica se io faccio male a uno soprattutto se è piccolo quel piccolo ripeterà il male noi sovente siamo tanto scandalizzati giustamente dalla pedofilia vi dico perché un po' di esperienza perché questi ultimi anni ho avuto a che fare molti che sono stati condannati e che poi ho dovuto accompagnare ma sapete la cosa che mi ha fatto più impressione è che di costoro vi posso fare una percentuale del 95% erano tutte persone che da piccoli erano state abusate tutte tutte 95 su 100 e certamente vanno fermate certamente bisogna renderle innocue ma ci rendiamo conto che questi nei collegi da piccoli erano stati già abusati e che giunti a 30 anni hanno esattamente ripetuto quello che era successo loro vedete il male com'è e nessuno da noi ne è esente le forme del male cambiano ognuno di noi ha una sua responsabilità l'unica cosa è sperare di arginare il male col bene e sperare poi che Dio con la sua misericordia almeno per chi è credente cristiano abbia la possibilità di certamente pentirsi del male fatto ma di trovare ancora la possibilità di una pienezza di vita che anche facendo il male non ha avuto grazie ancora della scorsa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti